C'hai fatto la mano nell'abbattere questi signori dei pirati. Pensi che gli altri siano terrorizzati, eh? Qui affronterai Tagal e Tagurn, quattro mannaie in tutto. Un braccio forte e una lama affilata. Pensano sempre che bastino. Un braccio forte e un braccio forte. 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 Vieni d'occhio le mannaie. Non vorrai sfiancare il tuo spettro. Un braccio forte e un braccio forte e un braccio forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Israx non ti ha detto altro su queste reliquie. Immagino non si è dato sapere più del necessario. E Misrax lo sa. Ragno, perché stai usando un canale sicuro? Te lo ha chiesto mio padre. Eh? Che scriva perspicace. Finiti i complimenti? Beh, Misrax mi ha chiesto di tenerti a debita distanza. Forse non vuole che ti immischi nei nostri affari discutibili. Ha usato queste parole? Forse. Chi può dirlo? E soprattutto chi sono io per mettere in discussione il Kel? Ragno. Scoprirò cosa c'è dietro tutto questo.